Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Icaro Tg, vediamo insieme le notizie principali di oggi. Amministrative 2014, vittoria del centro-sinistra in 14 comuni su 19 al voto in provincia. A Bellaria si conferma Ceccarelli, ballottaggio a Riccione. Picchia e umilia la giovane moglie, arrestato nel riminese un 31enne cubano, dovrà rispondere di maltrattamenti e violenza sessuale. Accordo tra meeting e regione, la fondazione restituisce i 90.000 euro di fondi ricevuti per le edizioni 2009-2010 finite nel mirino degli inquirenti. Al 105 Stadium di Rimini, gli assoluti della ginnastica ritmica, è la prima volta che in regione viene ospitato un evento simile. C'è chi vende prestiti. Libra Finanziaria li disegna su misura per te, mettendoti a disposizione un tutor che ti seguirà per trovare la soluzione ideale per le tue esigenze. Libra Finanziaria eroga direttamente finanziamenti a lavoratori dipendenti e pensionati, senza spese di agenzia o mediazione. Chiamaci al numero verde 800-942-949 o visita il nostro sito libraspa.it. Abbiamo il prestito giusto per te. Libra Finanziaria. Nel mare dei prestiti. Scegli i migliori. Per me Per me Per me Specialmente per me Al Caffati ti accogliamo con cordialità e ci occupiamo con cura e competenza delle questioni fiscali della tua famiglia. E apriamo questo telegiornale tornando a parlare di politica. Anche la provincia di Rimini premia infatti il Partito Democratico e il Centrosinistra. 14 su 19 dei comuni che andavano al voto hanno sindaci infatti appartenenti a coalizioni di centrosinistra che ritornano a governare in due comuni fino a ieri in mano al centrodestra come Saludecio e Casteldelci. Vittorie larghe per il PD a Sant'Arcangelo e Misano. Bellaria invece resta saldamente in mano al centrodestra. Movimento 5 Stelle esce deluso da tutte le consultazioni ma si consola visto che è riminese uno dei 17 euro parlamentari pentastellati che siederanno a Bruxelles, il biologo Marco Affronte. Resta, tornando alle amministrative, l'incognita del comune di Riccione dove sarà ballottaggio tra Fabio Ubaldi e Renata Tosi. Il candidato del centrosinistra Ubaldi esce dal primo turno col 45,06% delle preferenze. Per la Tosi, rappresentante di alcune liste civiche sostenute anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, la percentuale del 34,71%. Ieri, saputo l'esito delle urne, Lucia Renati ha intervistato i due sfidanti. È un gran bel risultato, siamo molto contenti. È normale che è tutto in linea con quanto avevamo detto nei giorni scorsi. Avevamo già diramato un sondaggio che avevamo fatto e ha preso in pieno. Quindi è confermato il dato che avevamo e siamo molto soddisfatti rispetto a quello che si diceva di noi in questi giorni, soprattutto col trend nazionale. Nelle prossime settimane che cosa si farà? Si continuerà a fare una grande campagna elettorale. Siamo stati bravi, abbiamo dimostrato serietà, continueremo su quella linea, non ci muoveremo da lì. Quindi continueremo a fare una campagna elettorale sana sui temi che abbiamo sempre battuto e continueremo a incontrare la gente sul territorio perché è finito un primo tempo, ma da ex calciatore posso dire che la partita dura 90 minuti e correremo il secondo ancora più forte del primo. Lo correrà insieme all'altra candidata sindaco, Renata Tosi, che tipo di sfidante è? La Renata è una donna preparata, ha già fatto dieci anni di legislatura. Io credo che sia importante in questo momento fare il centro-sinistra perché tutto dipende da noi, i risultati, i numeri parlano chiaro, c'è un bel margine di vantaggio ma non ci accontentiamo e vogliamo aumentarlo. Sul TRC abbiamo preso una posizione che è l'unica posizione seria e che credo i cittadini abbiano capito ecco perché un'inversione di tendenza c'è stata e questo margine di differenza in queste elezioni stanno dimostrando che i cittadini alla fine tengono più a una politica seria. Il commento è assolutamente un grazie doveroso a tutta la squadra, a tutti i ragazzi che hanno partecipato con me a questa bellissima prima tappa della nostra avventura. Un grazie a ricionesi che hanno regalato a Riccione e a noi tutti una grande opportunità, il ballottaggio. Se l'aspettava? Era nell'aria ma fino in fondo, fino all'ultimo seggio era molto difficile e quindi abbiamo atteso fino alla fine perché Riccione è una realtà che fino a ieri era particolarmente difficile, oggi però si è aperta una pagina nuova. La gioia è grande, che cosa si farà nelle prossime due settimane perché la campagna elettorale per voi continua? Torneremo in città perché probabilmente non siamo arrivati ovunque, il progetto probabilmente non siamo noi riusciti a trasmetterlo adeguatamente perché la bontà del progetto è assolutamente secondo noi buono perché parte dalla base. Non è solo No TRC la nostra proposta perché Riccione ha bisogno di tante risposte, scusa, alle tante domande in evasi in questi cinque anni. È sicuramente una delle questioni aperte. Si pensa anche a qualche alleanta, non so, col Movimento 5 Stelle è un'alleanta. Noi parleremo di cose, così come abbiamo fatto nella prima fase della campagna elettorale, così lo faremo nella seconda. Parleremo delle cose che Riccione ha bisogno di avere, delle cose che bisogna dare a Riccione e credo che su queste tante saranno e spero le persone che ci seguiranno. Fabio Ubaldi, che avversario è? Giovane. Forse troppo. Vediamo ora com'è andata Misan Adriatico, Sant'Arcangelo e Bellaria e Giammarina. Vittoria Netta a Sant'Arcangelo per il centro-sinistra di Alice Parma, che raggiunge il 51,7% dei voti e 10 consiglieri. Distanti gli altri, Berlati, sostenuto dalla lista Civico e da Forza Italia, si ferma al 16,6% con due seggi, come il 5 Stelle di Sarandrea Zoli. Un seggio anche per Novelli, di una mano per Sant'Arcangelo, 11,8% di voti e a Polloni di Fratelli d'Italia. Alice Parma, con i suoi 26 anni, è tra i sindaci più giovani d'Italia. Il trend a livello nazionale ha avuto un ruolo importante anche in queste amministrative, ma sicuramente il nostro progetto è stato un progetto giudicato vincente dai Sant'Arcangelesi. La ferita del commissariamento per i Sant'Arcangelesi è stata oggi ripagata per noi con la vittoria del centro-sinistra. Noi crediamo fortemente che il commissario comunque abbia mandato avanti positivamente l'ordinaria amministrazione. Ci sono state delle scelte politiche importanti che sicuramente nei prossimi mesi andranno a rivista. A Bellaria e Giammarina arriva una conferma per il sindaco di centro-destra Enzo Ceccarelli, che sbaraglia la concorrenza sfierando il 55%. Lontani Gabriele Morelli del centro-sinistra e Lombardi del 5 Stelle, che porteranno comunque i rappresentanti in consiglio, a differenza della lista Cittaviva, che candidava Crociati Sindaco, e della civica Bene Comune di Zavatta. Un risultato, il 55%, che non pensavo mai possibile fino a qualche ora fa. Quindi i bellariesi, i dieci anni, hanno scelto ieri in un modo e oggi completamente diverso. Questa è una grande soddisfazione per me. Ci sarà qualche novità, qualche cambiamento nella squadra, nel modo di lavoro? Ma intanto sicuro perché le nuove regole dicono che invece di sette assessori saranno cinque, e invece di come era prima saranno più le donne. Quindi sicuramente sarà tutto nuovo. Conferma anche a Misano per Stefano Giannini, della coalizione di centro-sinistra, che supera il 50%. Secondo partito il 5 Stelle, col candidato Luca Gentilini al 28%, che siederà in consiglio con altri tre pentastellati. Un seggio anche per Antonio Mignani, della lista per Misano, che ha raccolto l'11%. Siamo molto contenti perché riconfermarsi non è una cosa semplice. Abbiamo portato, diciamo così, a queste elezioni il lavoro fatto in questi anni. Credo anche una cosa molto importante, una squadra molto rinnovata. L'ondata Renzi è arrivata anche a Misano e quindi sia nella pubblica amministrazione che nel partito si va avanti con questa finalità. Serenità, voglia di fare senza tutte quelle incrostazioni un po' ideologiche che ci hanno un po' accompagnati in questi anni. E sentiamo adesso un'altra carrellata di commenti a caldo dei neosindaci. Hanno prevalso le idee, hanno prevalso la buona politica, l'onestà e la trasparenza. Noi abbiamo proposto questo ai nostri cittadini, abbiamo proposto quello che siamo, perché non possiamo presentarci diversamente. Ci hanno conosciuti in questi cinque anni e probabilmente è stato premiato questo. È stata una battaglia lunga, dura, tra donne e quattro donne, quindi effettivamente è stata una campagna tutta rosa. Sono contenta perché tutto sommato devo dire che siamo riuscite a dimostrare anche di essere capaci a tenere i toni bassi. Qualche, come si dice, fuga in avanti c'è stata, c'è stata anche nei nostri confronti. Abbiamo deciso di non prestare il fianco a questo tipo di situazioni. E io credo che questo atteggiamento costruttivo, questo atteggiamento di guardare oltre, di guardare avanti, abbia pagato me, la nostra lista, con i numeri e le percentuali che ci riempiono di grande, grande soddisfazione. Ci speravo, ci speravo, però ho fatto tanti di quei conti in questi giorni che poi la mente era confusa, quindi mi sono seduto, aspettato i risultati e sono felice di quello che è arrivato. Il mio motto è sempre stato costruire, mai distruggere. Proporsi sempre un obiettivo, l'amministratore si deve sempre proporre un obiettivo e cercare di raggiungerlo. Questo probabilmente l'elettore l'ha capito. Sinceramente quando abbiamo iniziato questo percorso non pensavamo assolutamente di arrivare a una maggioranza assoluta. Questa è una gioia che ho dentro di me, che voglio dividerla con tutti i miei ragazzi che fanno parte della lista e specialmente con tutti i marianesi che ci hanno dato fiducia. Superare il 50% è innanzitutto il risultato che dà quella forza di dire alla gente che abbiamo la maggioranza e quindi non possiamo essere ricattati in ogni caso da niente. L'emozione è grande perché il comune è più grande, ero abituato a Poggio Berni, ma credo che ci abitueremo molto velocemente a questa nuova comunità più grande perché abbiamo una serie di amministratori che abbiamo proposto, che sono stati eletti e che hanno tutte le competenze per amministrare bene i prossimi cinque anni. Sapevamo che era combattuta, molto combattuta, quindi abbiamo lavorato molto, ci aspettavamo di vincere come si aspettano un po' tutti quelli che credono nelle proprie idee e noi ci credevamo molto e quindi ce l'aspettavamo. Il nostro sito newsrimini.it si conferma punto di riferimento per gli appuntamenti elettorali del territorio riminese. Ieri i visitatori per le nostre pagine, aggiornate in tempo reale, sono stati 22.499 a cui si aggiungono i 6.031 della versione mobile, per un totale, nella giornata di ieri, di 28.520 visitatori. Cambiamo adesso argomento. La cronaca è stato arrestato ieri mattina nel riminese un 31enne cubano accusato di maltrattamento alla giovane moglie italiana. I due si erano conosciuti e sposati a Cuba prima di trasferirsi in provincia di Rimini. Nel 2010, dopo pochi mesi di convivenza, l'uomo, spesso ubriaco, aveva iniziato ad essere aggressivo nei confronti della donna, umiliandola anche in pubblico con insulti e aggressioni fisiche. La moglie, per sottrarsi alle violenze, era arrivata a dargli del denaro prima di far ritorno a casa dei genitori, abbandonando l'abitazione che condividevano e dove il cubano intratteneva anche in maniera plateale una relazione extraconiugale. L'uomo era arrivato a picchiarla anche in presenza delle amiche e in alcuni casi ad obbligarla a consumare rapporti sessuali. Il 31enne dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali aggravate. I carabinieri di Riccione hanno arrestato oggi nel comune romano di Anzio un quarantenne cosentino, ritenuto uno dei due rapinatori che il 2 settembre del 2013 avevano fatto eruzione nella filiale Carium di Via Repubblica a Misano con barba finta e occhiali e armati di pistola. Secondo le ricostruzioni, sarebbe l'uomo che, innervosito dal sistema di ritardo dell'apertura della cassaforte, avrebbe minacciato che nessuno sarebbe uscito dall'istituto se la cassaforte non si fosse aperta. Alla fine i due rapinatori fuggivano con i soli 3.000 euro delle casse. Grazie alle immagini della videosorveglianza, gli inquirenti sono risaliti alla moto usata per la fuga, risultata rubata ad Anzio e da qui alla quarantenne poi arrestato. E intanto, secondo i dati diffusi dall'Associazione Nazionale Bancari, nei primi tre mesi dell'anno la provincia di Rimini ha registrato una sola rapina rispetto alle 7 del 2013. A livello regionale il calo nel primo trimestre è stato da 25 a 19. Il meeting di Rimini ha restituito alla Regione Emilia Romagna i contributi ricevuti nel 2009 e 2010, annate per le quali i vertici della Fondazione sono al processo con l'accusa di aver percepito fondi irregolarmente. Lo ha reso noto la vicepresidente della Regione, Simonetta Saliera, rispondendo ad un'interrogazione in assemblea legislativa. La cifra tiene conto anche di interessi e spese legali ed è frutto di un accordo tra i legali della Regione e del meeting. Un accordo raggiunto dopo che nel marzo scorso proprio la Regione aveva deciso di prendere parte al procedimento penale come persona offesa. E cambiamo adesso decisamente argomento. Il primo festival del rione Monte Cavallo di Rimini si svolgerà sabato e domenica primo giugno lungo le vie principali del rione che abbraccia parte del centro storico riminese con una kermesse promossa dai residenti per far conoscere la storia e l'arte della zona. Sarà il primo dei quattro rioni storici di Rimini ad avere un proprio festival. Il rione Monte Cavallo si prepara sabato 31 e domenica primo giugno a fare festa. Un prologo già venerdì 30 con lo spettacolo dei ragazzi del liceo della comunicazione che interpreteranno Romeo e Giulietta davanti a Porta Montanara. L'iniziativa mira a far conoscere il rione con mostre, passeggiate storiche, caccia al tesoro, visite guidate e ancora musiche, danze, incontri, giochi ed esposizioni. Il festival nasce dall'incontro tra varie realtà tra le quali ci sono anche le scuole, un'associazione culturale e un centro sociale. E' bene segnalare alcune piccole iniziative semplici ma secondo me importanti che sono per esempio una caccia al tesoro a cui partecipano i ragazzi della terza media delle scuole. C'è un torneo di calcetto in cui addirittura le squadre hanno preso i nomi delle vie del rione che sono i Bertoliani, i Garibaldini, i Monte Cavallini. C'è uno spazio musica per esempio al circolo Monte Cavallo dove chiunque può arrivare quel pomeriggio e improvvisarsi musicista insieme ai ragazzi del rione che lo frequentano. Un festival che unisce aspetti storici e culturali di un rione che abbraccia quella fetta di centro storico tra Porta Montanara, via Garibaldi, bastioni meridionali e Corso d'Augusto. Tra gli eventi la rivisitazione della città e del territorio con una passeggiata che toccherà i luoghi più significativi e la mostra sui terremoti che hanno devastato la città. Una mostra nel vicolo San Bernardino dedicata al terremoto riminese del 1916 e in parte anche agli altri terremoti storici del riminese. Vi saranno foto d'epoca e una gran quantità di didascalie per esplicare in maniera molto semplice con brevi nozioni concettuali, notizie storiche i terremoti, le possibili strategie per ridurre il rischio sismico nel territorio riminese. Siamo alle notizie di tutto in 100 secondi. Nell'ambito dell'operazione Palace, Rimini Fiera ha pubblicato l'avviso per la vendita dell'area di 24.480 metri quadri alla vecchia Fiera di Rimini per una superficie utile e complessiva di 14.000 metri quadri di cui un massimo di 5.000 per il commerciale, 8.500 per il residenziale e 2.500 per il direzionale. La scadenza per versare la fideiussione di 500.000 euro e sottoscrivere lo schema di contratto preliminare è il 18 luglio. Si avvia alla definizione il progetto del nuovo mercato ittico riminese. La cooperativa Pescatori del Mare ha infatti trovato l'accordo col comune, un progetto da 10.000 metri quadri in via sinistra del porto che prevede anche interventi sui cantieri navali. Mercoledì, l'incontro con l'assessore regionale Rabboni. Al secondo tentativo, l'Apple Store delle Befane di Rimini ha ceduto. Nella notte, ignoti sono entrati dalla condotta dell'aria, hanno rubato alcuni iPad e notebook e sono poi fuggiti dal tetto. Stesso modus operandi di venerdì notte, quando però i malviventi erano stati messi in fuga dall'allarme. Sarà difficile piazzare l'aria furtiva. Gli apparecchi, una volta attivati, forniranno la loro posizione. I carabinieri consigliano di non acquistare prodotti sospetti a buon prezzo, anche se con scatola e garanzia si rischia la denuncia per ricettazione. L'esperto di enogastronomia, Paolo Massobrio, venerdì alle 18.30, nella sala del Consiglio Comunale, sarà nominato cittadino onorario di Coriano. Sarà anche l'occasione per annunciare l'assegnazione della denominazione comunale alla zuppa di seppi e fagioli, piatto tipico locale. Massobrio è anche organizzatore di Golosaria, Kermesse Gastronomica in programma al Palacongressi di Riccione, da sabato a lunedì. Domenica e lunedì prossimi il 105 Stadium di Rimini ospiterà il campionato nazionale assoluto ed insieme 2014 di ginnastica ritmica. È la prima volta che viene organizzato un evento così prestigioso di questa disciplina sportiva in regione. Questa mattina c'è stata la presentazione in municipio a Rimini. Un 105 Stadium trasformato in un salotto Lille-Fucsia accoglierà domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno il campionato nazionale assoluto ed insieme di ginnastica ritmica. Sono le competizioni più prestigiose del calendario agonistico federale, che porteranno a Rimini ben 90 squadre, appartenenti a 73 società provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 600 ginnaste. La nostra società è nata appena tre anni fa e dalla federazione ha avuto la possibilità di organizzare questa manifestazione a livello nazionale di campionato di insieme e di assoluti. Noi abbiamo una squadra tesserata proprio a ginnastica Rimini che parteciperà ai campionati giovani con la squadra giovanile. Le ambizioni come società sono che questa squadra possa partecipare e arrivare almeno in finale. Come organizzatrice di eventi speriamo di avere un riscontro sia dal pubblico che anche da tutti i partecipanti buonissimo. Ci saranno gare individuali dove le ginnaste entrano in pedana con un attrezzo e svolgono il loro esercizio e esercizi d'insieme, cioè cinque ginnaste che lavorano contemporaneamente, la categoria open tre palle e due nastri e invece la categoria giovanile cinque palle. Poi ci sarà il criterio in giovanile una nuova formula di gara per giovani promesse italiane. Quali sono i nomi da tenere sotto stretta osservazione? Beh, per quanto riguarda a livello individuale ci sono tutte le ginnaste del team Italia con la Bertolini che è campionessa italiana in carica, Russo che è un'altra bellissima ginnasta di Chieti. A livello di squadra ci sono tantissime squadre famose, importanti che hanno conquistato i titoli per tanti anni come la ginnastica Fabriano, come il Flaminio Roma e come anche l'Aurora Fano che insomma contende il titolo nel settore giovanile che è attualmente vice campione italiano ma è stata negli altri due anni precedenti il campione d'Italia. E noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio al meteo. Buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.